Il Vice Sindaco è qui in questo bellissimo evento del Centro Anziani. Abbiamo qualcosa da dire a loro, vero? Buonasera a tutti. Sì, in effetti dobbiamo essere noi come amministrazione orgogliosi di questo gruppo di diversamente giovani. Ecco, non diciamo di anziani, perché faccio parte anch'io come iscritto. È un centro che effettivamente è molto vivo, organizza molte manifestazioni e la testimonianza di quello di oggi è proprio il classico esempio di un impegno che i nostri coetani esercitano e usano per far sì che la popolazione ne usufruisca e che serve a tenerli vivi questi nostri colleghi, diversamente giovani. Quindi bisogna effettivamente lodare la loro attività e noi come amministrazione ci siamo impegnati a sostenerli nelle loro attività, anche perché con le loro attività portano avanti, portano in giro per la nostra nazione il nome di Cantalupo in Sabino. È vero, è vero. Siamo orgogliosi di tutti loro e non vediamo l'ora di tornare perché noi siamo al vostro servizio per far sapere al mondo che ci siete e che create questi eventi bellissimi. Vi ringraziamo sempre per la vostra fattiva collaborazione e noi siamo sempre qui ad aspettarvi. Grazie. Grazie.